Un cortiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per ripristino incidente 5 km di coda tra Chiusi e Valdichiana e un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione Roma. In direzione Bologna anche un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino. Sul raccordo Lucca-Viareggio ci sono code a tratti in entrambe le direzioni tra Massarosa e Lucca-Ovest. Sulla A12 chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Livorno per lavori. Sulla FIPILIC per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pluneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!